E' morta all'ospedale annunziata di Cosenza a causa del Covid una donna di 39 anni. Era purtroppo immunodepressa e il contagio al virus non le ha dato scampo. Nella giornata di domenica 27 febbraio sono giunte anche in Calabria le dosi di vaccino Novavax contro il Covid-19 che verranno somministrate a partire da domani 1 marzo. Il comune di Mormanno si dice pronto ad ospitare 30 profughi ucraina in una propria struttura all'ostello comunale. E anche alcune famiglie del comune di Polino hanno offerto la propria disponibilità ad accogliere chi fugge dalla guerra in atto. A Scalea prevista per domani 1 marzo la marcia per la pace promossa dall'amministrazione comunale l'obiettivo e la vicinanza alla comunità ucraina presente sul territorio.